Anche Angelo Pio ha iniziato a studiare a gennaio, ha scelto un brano veramente che è... Qui vogliamo sentire il battito delle mani e guardate cosa ci sarà dietro questo brano tutte le Under 16 di Febri Dance. Per voi, Angelo Pio e le Under 16 in Occidentali Scherma! Il primo che ha vinto Sanremo 2017! E se lo conversere i gruppi ammettico contemporaneo come l'uomo che non li dico nella tua gabbia dove te metti di comodo internet, internet, caffè, internetologi social orari del gruppo d'eserci, canonimi, intelligenza, lemote, risposte facili, dilemmi inutili. Ah, ah, accendati. Upa! Un'impload. Grazie a tutti. 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 Allora Angelo Pio non solo sta facendo dei progressi, credetemi come sta iniziando a suonare la batteria, il prossimo anno lo vedrete. Il prossimo anno vi farò vedere un'altra parte di sé, sei stato bravissimo, complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.